Il primo mestiere che lei ha sognato di fare? Presidente degli Stati Uniti. E a seguire? Papa, poi pilota di Formula 1, poi in realtà credo che alla fine io abbia sempre voluto fare l'imprenditore. Che cosa vuol dire oggi per un imprenditore essere innovativo? Riuscire a creare del valore aggiunto con minori risorse e quindi a farsi uno spazio sul mercato perché sei più grande ma perché sei più bravo. Innovazione e tradizione non vanno necessariamente a scontrarsi. È chiaro che per innovare bisogna mettere in discussione quello che c'è e che magari va benissimo. Dici ma io ne voglio fare una che va meglio, ma che bisogno c'è? Ecco, lì c'è un profondo solco tra chi pensa al futuro e quelli che invece pensano al presente o al passato. La sua prima passione è stata l'informatica? No, è stata la fotografia. Poi sono stato affascinato dall'informatica anche quando non esisteva ancora. Dei giovani in America cercavano di realizzare dei computer che tutti potessero possedere. quella potenza di calcolo, di lavoro, di espressione affascinava alcuni giovani. Ecco, io ero uno di quelli. In tre parole, che cosa dà la tecnologia a un'azienda? Velocità, la flessibilità e l'affidabilità del proprio operato. Torniamo alla sua passione per le auto. Sognava di fare il pilota di Formula 1, poi ha cambiato idea. La sua passione però è rimasta. Le macchine, le moto, le bici, tutto ciò che di meccanico mi interessa. E poi, insomma, le moto, le bici, le macchine le ho anche guidate, mi piace anche guidare. Però devo dire che se dovessi scegliere tra mettere a punto una macchina da corsa per un gran premio o guidarlo, oggi sceglierei di sicuro la messa a punto. Pensa che le auto elettriche adesso abbiano un futuro? L'auto elettrica avrà sicuramente un futuro perché è più pulita, ma non nell'inquinamento perché questa elettricità da qualche parte bisogna produrla, ma è proprio più pulita lei, meno pesante, meno acciaio, meno freni, meno tutto, perché è sicuramente il motore elettrico come rapporto peso-potenza è ancora imbattibile con tutti gli altri motori in circolazione adesso. Quindi è lì il futuro. Poi l'auto elettrica non è ancora di largo consumo, potrebbe diventarlo rapidamente, ma è una questione di volontà, di volontà dei massimi sistemi. Se si fosse deciso che le macchine dovevano andare a elettricità nel 1940, oggi ci sarebbe tecnologia e cultura e tutto andrebbe elettrico, perché quando hanno deciso di andare a sua luna non era lì tutto pronto, hanno deciso, si fa e si va a sua luna. Potessi inventare qualcosa, che cosa inventerebbe? La BasicNet. Quante volte le hanno dato del matto nella sua carriera imprenditoriale? Una volta esplicitamente in una riunione molto importante un signore mi ha detto no, questo è troppo, lei è matto. La fine chi aveva ragione? Lui, di sicuro. Quindi riprendiamo Steve Jobs, Stay Foolish, Stay Hungry. Senz'altro, Steve Jobs è uno dei tanti che l'ha detto, miliardi di persone operose che sognano di migliorare la qualità della propria vita e poi anche degli altri e che naturalmente per fare questo devono avere un po' di capacità esagerata di immaginazione. Grazie a tutti.